Finora abbiamo parlato a lungo dell'Afghanistan, in un mondo dilaniato da guerre, dissesti politici e crisi umanitarie. Oggi dedichiamo il nostro telegiornale solo alla presentazione del nostro cortometraggio Messia contro le guerre e per la pace, augurando buona visione a tutti i nostri amici e telespettatori. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!